Ciao a tutti, bentornati ad In The Paint, puntata del lunedì, puntata dedicata ancora una volta agli europei di basket che si stanno disputando a Berlino per la fase di eliminazione. I risultati degli ottavi di finale, sabato si sono giocate, Turchia-Francia 86-87, 22 punti di Tuncer per i turchi, 20 punti e 17 rimbalzi di Rudi Gobert per la Francia, un finale incredibile quello tra le due squadre con la Turchia che aveva la partita in mano con un fallo antisportivo fischiato, sbaglia i due liberi, sbaglia il successivo possesso, dopodiché, mancato taglia fuori, arriva Gobert per il suo diciassettesimo rimbalzo e ad inchiodare il suo ventesimo punto che vale il passaggio del turno. Turchia che era tra l'altro priva della sua stella Shane Larkin che comunque non avrebbe avuto per tutta la durata dell'europeo. Slovenia batte Belgio 88-72, 35 punti per Luka Doncic, 16 per Leconte per i Fiamminghi o Valloni che dir si voglia. Il Belgio però regge per ben tre quarti alla pressione slovena prima di crollare sotto i colpi del maggior tasso tecnico degli avversari. La Germania sembrava andare sul velluto e invece soffre per battere 85-79 il Montenegro, 22 punti per Dennis Schroeder per i Teutonici, mentre per i Montenegrini ce ne sono 25 di Kendrick Perry. Occhio però alla situazione nella rosa della Germania perché Franz Wagner, uno dei migliori in questo europeo, è uscito malconcio dalla gara. La gara e la polemica è stata quella del sabato perché la Spagna ha battuto dopo un overtime la Lituania per 102 a 94 con un overtime in cui ha segnato ben 19 punti in appena 5 minuti. Polemica perché? Perché Brown con 28 punti è il miglior realizzatore della Spagna mentre per la Lituania ci sono 18 punti di un Kuzminskas che subito dopo ha dichiarato avrei voluto vedere la Spagna senza il naturalizzato Brown. Peccato però che Kuzminskas ovvi il fatto che Brown è il sostituto di un giocatore più che spagnolo che era Ricky Rubio e che si è infortunato. Una pratica quella delle nazionalizzazioni che ovviamente non è l'optimum a cui potremmo aspirare noi che guardiamo il basket ma che è fatta da tutti e nessuno impediva alla Lituania di farlo. Anche perché ha avuto una cosiddetta naturalizzazione di ritorno con Ignas Brasdakis che le prime partite ufficiali le aveva giocate con la canotta del Canada. Nella giornata di domenica risultati molto simili ben 3 86 a 94 ed un 94 ad 88. Si è sfiorato lo stesso risultato in tutte e quattro le partite disputate. Aneddoto a parte l'Ucraina deve inchinarsi per 86 a 94 alla Polonia non bastano 15 punti di Bobrov i polacchi replicano con 24 punti di AJ Slaughter e con un incredibile Mateus Ponitka da 22 punti 9 rimbalzi e ben 6 assist. La Finlandia con un Markanen da 43 punti a referto batte la Croazia di un Bogdanovic unico terminale offensivo con i suoi 23 punti per 94 ad 86. La Serbia invece crolla clamorosamente contro l'Italia non bastano 32 punti di Jokic. Gli azzurri con spesso sugli scudi ma con ben tre giocatori vicini sopra o vicini ai 20 punti batte i Balcanici per 94 ad 86. Nella gara della sera invece Grecia batte Repubblica Ceca 94 ad 88 con 27 punti e 10 rimbalzi di Antetokounmpo. Per i cechi 21 punti di Wesley ma occhio alla prestazione di Thomas Saturansky che distribuisce ben 17 assist. I quarti di finale prenderanno invece il via domani martedì 13 settembre alle 17 e 15 sarà la volta di Spagna Finlandia mentre alle 20 e 30 scenderanno in campo Germania e Grecia nella giornata invece di mercoledì 14 l'Italia affronterà la Francia alle ore 17 e 15 mentre alle 20 e 30 sarà la volta di Slovenia e Polonia. Parliamo però dell'impresa del miracolo sportivo dell'Italbasket. L'Italia batte la Serbia di Nikola Jokic 94 a 86 giocando una partita sublime. Una partita che vive di tanti momenti. Di un momento in cui l'Italia come vedete adesso alle immagini crolla sotto i colpi della 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 Serbia arrivando anche a meno 14 ma per esempio reagisce reagisce rimanendo a contatto a fine primo tempo reagisce nel terzo quarto quando la Serbia ha provato un ultimo tentativo di fuga e poi domina domina nel secondo tempo arriva a più 12 e gestisce gestisce con lucidità che forse la parola chiave di questa partita. L'Italia è lucida quando scende a meno 14 e lucida quando è sul più 12 e vede che la propria fluidità offensiva sta avvenendo meno. Da qui l'estensione dei possessi si va al limite dei 24 si mangia tempo alla potenziale reazione serba. Non è bastato Jokic. Jokic non lo potevi fermare lo potevi provare a limitare e nonostante la gran partita che ha fatto Melli stoppata inclusa. Jokic ha messo a referto 32 punti tra l'altro con un gioco da quattro punti stile Danilovic ma da metà campo fallo di spesso eh un po' ingenuo e Jokic che aveva raccolto la palla con l'aiuto della tabella aveva riacceso improvvisamente le speranze serbe. Una Serbia che però è stata solo Jokic perché anche i 16 punti di Vasile Misic arrivano con un 5 su 14 dal campo. Anche i 12 punti di Kalinic sono un qualcosa di molto circostanziale. L'Italia si è concentrata su quello che era il supporto in casa di Jokic e l'ha fatto bene e l'ha fatto bene ed ha saputo quando accelerare e quando frenare. Ha saputo trovare un Marco Spissu che era stato criticato da tutti nel momento più importante. Marco Spissu dopo l'espulsione di Pozzecco per doppio tecnico mette in fila un 5 su 6 da 3. Era uno su tre prima che il suo coach, il suo mentore fosse espulso. E Pozzecco qualcuno dice che è stato fortunato. Qualcuno dice che è esagerato. È vero anche che lui spesso e volentieri attira l'attenzione su di sé per evitare che le conseguenze. Stesso fallo tecnico vada sui giocatori. Esempio Melli. Melli che con magari con un fallo tecnico sul gruppone non avrebbe potuto difendere in un certo modo e che avrebbe visto fischiare il suo quinto fallo molto prima di quando è successo. E poi c'è un MVP di questo europeo dell'Italia. Se ne parla poco. Se ne parla davvero poco. Ma Achille Polonara forse anche spronato dal fatto di aver cambiato lato di Istanbul andando all'Anadolu Efes dopo la stagione difficile di strutturare Penerbahce. Si sta superando. È solido. Ha numeri da centro pur essendo un'ala piccola. Un'ala grande scusate. È un'ala grande che si inala tre. È un'ala grande che prende rimbalzi. È un'ala grande che dà solidità difensiva. Polonara è veramente l'MVP di questo europeo fino ad oggi. Al netto delle grandi prestazioni di Fontecchio. Al netto di Umelli che è stato da manuale. Abbiamo detto che il voto per la nazionale italiana nel giorno è stato cinque perché è stata persa la partita che non si doveva perdere. È stata buttata via la possibilità di non prendere la Serbia che era l'unico avversario proibitivo. Alla partita di ieri bisogna andare nove se non dieci. Dieci per la lucidità. Dieci per aver saputo affrontare un avversario che da proibitivo è diventato abbordabile. Che tu hai fatto diventare abbordabile. E allora se è giusto criticare la nazionale quando si commettono degli errori è giusto anche elogiarla, esaltarne la prestazione. Una prestazione che ha dello storico perché qualcuno dopo l'impresa di Belgrado aveva detto sì ma la Serbia non aveva Jokic. Ieri Jokic era in campo. Ieri Jokic ha fatto il Nikola Jokic. Segnando in tutti i modi, smazzando gioco, prendendo rimbalzi, dando problemi su problemi alla difesa italiana. Eppure l'Italia ha saputo reagire e ha saputo trovare il piano partita giusto. Cosa non scontata. Cosa non scontata? Vedersi la partita con l'Ucraina. Altre notizie su questa partita? No. Perché adesso bisogna pensare alla Francia. Adesso bisogna subito voltare pagina perché gli europei continuano e contro la Francia, una Francia che fino adesso ha deluso dal punto di vista del gioco, che ha deluso anche dal punto di vista dei risultati nel girone qualificandosi come terza nonostante fosse ampiamente superiore alla Germania contro cui ha perso. Una Francia che ha dimostrato di avere problemi sugli esterni nonostante lo strapotere fisico che ha nel pitturato. Ma non è scontato che si possa battere la Francia. Anzi, la favorita è sempre l'avversaria. E l'Italia dovrà ripetere una partita quantomeno simile a quella che ha giocato ieri. E per farlo bisogna dimenticarsi di aver battuto la Serbia. Bisogna dimenticarsi di aver compiuto un'impresa. Perché ce n'è un'altra da compiere. E compierla ti porterebbe dove da tempo non arrivi. Cioè vicinissimo alla zona medaglie. In semifinale. Poi te la dovresti giocare contro un'altra grande con tutta probabilità contro la Slovenia. Ma intanto andiamo passo per passo. Ora l'obiettivo si chiama battere la Francia. E per battere la Francia servirà una prestazione come quella che abbiamo visto ieri. Vi ringraziamo noi intanto di averci seguito e vi diamo appuntamento sempre qui, sempre mercoledì, sempre sul Parking in the Pete. Ciao a tutti.